Lo stadio Marcello Melania ha aperto le porte ai più piccoli in occasione della simbolica inaugurazione del primo Orange Summer Camp che si svolgerà nelle settimane dal 20 al 24 giugno e dal 27 giugno al 1 luglio. Un'opportunità per i ragazzi nati tra il 2004 e il 2010 compresi per mettersi alla prova con il pallone e capire dal vivo come sarà il camp e perché no partecipare all'iniziativa ideata dall'OS Pistoiese 1921. Il camp aperto a bambini e bambine consisterà in un corso di calcio accompagnato da attività ludiche e ricreative curate dall'associazione Nonna Luisa. Il tutto svolto da persone qualificate, in primis giocatori professionisti che si metteranno in gioco insieme ai ragazzi a partire dal capitano della Pistoiese Corrado Colombo pronto ad insegnare a tutti qualche magia del calcio.